A lunci pezzi, e spatti risalendo la cunca La Croce Vincina No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Se vedò per poi dritta, dritta C'è che ho un errore, un cordo, un bestia calore ci scippavo i vesti i carni era assai più forte di lei la piccinigia non ci riusciva a dipendere se provavo a mozzicarmi a chiedere aiuto a chitare voci ma chitto ci resta il pugno nella bocca e nel petto proprio qua in docencio e la piccinigia si sentiva morire ebbe una rosa e zauda era non si parla mare dei morti alla mello Lara non ci piace cosa c'è qua dentro come fa ad avvicinare le cose agli occhi ci sono delle lenti e poi e tu leggilo leggilo nei libri e poi me lo dici a me che io libri non ne ho e non so leggere senti Mennu posso restare qui a vederti lavorare sai vorrei farti un disegno un ritratto tu sei il padrone e puoi fare tutto quello che vuoi io qua creata sola allora stai ferma che ti faccio un bozzetto ma non posso io non posso stare ferma io sono qua per lavorare ma io così non ci riesco e tu vai vai nel salotto rosso eh sì accanto al camino c'è quel ritratto di di quella donna e tu guarda mi piace mi piace mi piace mi piace La Menulare era la mia prima opera, io sono un avvocato, sapevo solo scrivere le deposizioni dei miei clienti, infatti il libro è fatto un po' come una deposizione, non descrivo i personaggi, parlo di quello che succede, non do un giudizio. Per esempio, non dico se la Menulare ebbe un grande amore per Orazio Alfallipe, l'uomo senza dubbio della sua vita, questo perché l'avvocato non deve mai dare dei giudizi, deve far sì che il giudice dia il giudizio che io preferisco sul mio personaggio senza spingerlo troppo. E questa forse è la vita delle donne e degli uomini al giorno d'oggi, ci presentiamo per quello che siamo, cerchiamo di ottenere quello che vogliamo, con modestia e con dignità sarebbe il modo giusto e poi cerchiamo la nostra contentezza come tutti. E in questo mondo se si ha dignità e si pensa sempre con rispetto agli altri, penso che vivremo tutti in una società civile migliore. E ho sempre temuto che i lunghi anni in cui l'avevo trascurata avessero rovinato il nostro rapporto. Siamo diversi, i padroni vedono la vita in un certo modo e le create in un altro. Sto morendo e muoio con l'immenso rimpianto che nessuno conoscerà mai le doti di questa donna. E' il mio amore. E tu, Melnù? Ecco, Orazio, così passa tutto. Passa tutto. Ma tu, Melnù, mi ami? Dormi, Orazio. Dormi. Ma tu, Melnù, mi ami? A presto. A presto. A presto. Grazie.